carica batteria per batterie nickel metal idrato per fucili elettrici questo carica batteria al suo interno il corpo carica batteria poi è provvisto un cavetto con morsettini da poter agganciare su questo cavettino qui questa semplicissima maniera altrimenti si mette il cavetto specifico per batterie soft tire noi abbiamo allegato un cavetto aggiuntivo di riduzione questo è per batterie grandi e questo per batterie piccole in modo che con questo accessorio siete in grado di caricare qualunque tipo di batteria voi abbiate al suo interno trovate una piccola chiave che serve per andare a regolare la potenza con questa chiave regolerete la potenza tanto più metterete avanti al massimo più veloce sarà la ricarica poi sul sito trovate anche le istruzioni per come caricare la batteria mettendo i dati della vostra batteria qui abbiamo un led adesso non è acceso non è visibile e qua c'è la spina murale dove aveva messo collegato calcolate il numero d'ore che serve per caricare la vostra batteria caricatela per quel tempo e non di più di modo che avrete sempre i risultati eccellenti